3 miliardi di passivo la banca nazionale naturalmente la scusa per non dare soldi ai contoni per non dare soldi alla popolazione andando in un movimento annuale di circa 800 miliardi sono tutte scuse di gente abituato a prenderci per i fondelli provate in una famiglia a molte famiglie succede che spendono di più di quello che percepiscono attingono i loro capitali fino a che ne hanno poi quando non hanno più va l'assistenza e tutto il resto non è che hanno opportunità maggiori l'anno dopo di ritrovare nuovi ricavati anzi probabilmente uno stipendio più basso caro vita non compensato ogni anno situazione peggiore ma la banca nazionale se ne frega tra sei mesi uscirà con 32 miliardi di utili intanto ci ha fottuti i soldi ai cantoni loro fanno divisioni sui utili trebitose e noi la prendiamo in quel posto come sempre questo grazie a una politica incapace di fare la politica ma che asseconda sempre il mondo economico complimenti